Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. Ancora una volta Facebook viene utilizzato per invitare alla rivolta contro l'oppressore, un po' come avvenuto in passato in Medio Oriente. Questa volta la notizia è che sono quasi mille le mamme alessandrine che hanno scelto il mezzo social per unirsi e ribellarsi ad una tassa che ritengono ingiusta. 150 euro da pagare al momento dell'iscrizione annuale dei figli al servizio delle mense scolastiche e che viene applicata solo ad Alessandria. Oltre alla tassa naturalmente le famiglie pagano ogni singolo buono pasto. Sentiamo De De Vinci. Al momento sono oltre 900 le mamme e i papà iscritti al gruppo creato su Facebook per protestare contro quella che ritengono un'ingiusta tassa di iscrizione alle mense scolastiche. La pagina si chiama Alessandrini contro i costi delle mense scolastiche. Sì, perché questa tassa di ben 150 euro deve essere pagata al momento dell'iscrizione al servizio di mense scolastica solo dagli Alessandrini. Per il secondo bambino è previsto uno sconto di 75 euro ma che in pratica costa ad ogni famiglia con due figli in età scolare 225 euro all'anno. Nelle altre città, anche quelle vicine a noi, non si paga questa tassa. Però chi arriva da fuori ma vuole far studiare i figli ad Alessandria ne paga 150 sia per il primo che per il secondo. Non c'è neanche lo sconto. È dal 2010 che si paga questa tassa. Le famiglie speravano che almeno nel nuovo anno scolastico, con il cambio di giunta, si potesse ritornare alla normalità. Invece Alessandria resta unica con questo balzello. In Piemonte solo Torino ha qualcosa di simile ma almeno è rateizzata. Adesso, dopo la plateale protesta su Facebook di quasi mille famiglie, si è svegliato anche l'interesse della nuova amministrazione. È stato promesso dal nuovo assessore che nel corso del prossimo anno, quindi nel 2018, saranno rivisti i costi di queste e di altre tasse. Le mamme non sembrano accontentarsi di questa risposta. Gli ultimi post sulla pagina del gruppo Facebook invitano a non mollare la pressione proprio adesso. Tra l'altro, proprio in questo periodo, si discute in Senato anche per l'obbligatorietà della messa scolastica. Il dibattito sul famoso diritto al panino in classe sembra sul punto di chiudersi definitivamente. Al momento la Commissione Agricoltura del Senato, poi sarà la Commissione Istruzione ed infine ci sarà la votazione in Aula. Risvolti anche Alessandrini per l'indagine della Guardia di Finanza di Imperia. Oltre al direttore generale di Riviera Acqua, gestore unico del servizio idrico in provincia di Imperia, appunto Gabriele Saldo, ex consigliere regionale in Liguria di Forza Italia, è stato arrestato anche il novese Gabriele Fontana, in quanto presidente della Commissione d'esame per l'assunzione di personale nella società. Sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di aver anticipato le domande di un concorso ad una persona che poi lo ha vinto. I due sono ora agli arresti domiciliari su richiesta del GIP, con le accuse di rivelazione di segreto d'ufficio e truffa ai danni dello Stato. Secondo l'accusa, il presidente della Commissione esaminatrice avrebbe anticipato le domande al direttore generale, che a sua volta le avrebbe girate ad un candidato poi risultato vincitore. L'indagine, che al momento conta sei indagati, ha preso le mosse nel marzo scorso. Dall'analisi di documenti e da perquisizioni fatte lo scorso luglio, è emerso un quadro probatorio connotato da gravi indizi di colpevolezza, dicono gli investigatori. Ricordiamo che Federico Fontana, Novi Ligure, è stato uno dei fondatori del PD locale. Per due legislature è stato assessore comunale al bilancio e successivamente è stato nominato presidente del CIT, il Consorzio Intercomunale Trasporti, in carico dal quale si è dimesso nell'aprile del 2016. Ed ora torniamo ad occuparci dell'emergenza idrica che sta mettendo in crisi il nord-ovest, come del resto molte altre zone d'Italia. Nell'Astigiano si è svolto un vertice in prefettura, dove si sono riuniti gli amministratori provinciali, i vigili del fuoco, le autorità d'ambito territoriale alessandrino competente per quella fetta di territorio. C'erano anche Protezione Civile e Amag Alessandria, che gestisce il servizio di acquedotto di quell'area. Sono state decise azioni immediate per ridurre la carenza d'acqua nei comuni della Langa Stigiana e della Valle Bormida, dove da cinque giorni l'acqua è molto scarsa. In particolare, spiega la prefettura in una nota, l'autorità d'ambito 6 prenderà contatti con le omologhe autorità d'ambito nel Cureese e nell'Astigiano Monferrato, al fine di reperire ulteriori mezzi e punti di approvvigionamento per le autocisterne incaricate dall'Amag di rifornire gli acquedotti in emergenza. Saranno intensificati i viaggi di rifornimento e ci saranno interruzioni programmate dell'erogazione, specie nelle ore notturne, finalizzate a salvaguardare sufficienti livelli di servizio in tutte le località durante il giorno, fa sapere la prefettura. La pagina occupazionale, mentre in Piemonte preoccupa il presidio che prosegue dallo scorso 31 luglio e che vede protestare i lavoratori della Comital, l'azienda di Volpiano, che produce laminati d'alluminio per le industrie farmaceutiche e alimentari, che la proprietà francese AED vuole chiudere licenziando 139 dipendenti, Nel capoluogo Ligure c'è invece il via libera all'assunzione di 33 autisti AMT. Il Comune di Genova ha infatti autorizzato l'azienda di trasporti a completare il programma di assunzione appunto di autisti per tutto il 2017. Il totale nel corso di quest'anno sarà pari a 103 unità. A questi si aggiungeranno 13 operai addetti alla manutenzione e che verranno inseriti in AMT a completamento delle procedure d'assunzione in corso. L'attuale amministrazione ha voluto dare un primo importante riscontro alle richieste dell'azienda e dei lavoratori, ha spiegato il vice sindaco e assessore alla mobilità Stefano Baleari. Quest'operazione consente di abbattere ulteriormente lo straordinario aumentando la flessibilità e riducendo i costi di esercizio. Le modalità d'assunzione sono state concordate in sintonia con le organizzazioni sindacali e questo un proficuo metodo che intendiamo perseguire, ha detto ancora, pure in futuro, nell'interesse dei genovesi e di chi utilizza il servizio pubblico. Restiamo in ambito occupazionale, parliamo ancora di questo aspetto con un nord-ovest però che latita nell'essere efficace, nel fare sistema. Sentiamo. Fare sistema, un'espressione tecnica ma che rende perfettamente l'idea di come, quando si parla di imprese e di capacità di essere efficaci, si riesca ad essere vincenti solo se è un territorio intero che lavora in squadra per creare ripresa, sviluppo, occupazione. E il nord-ovest, come si dice in questi casi, latita, nel senso che se si deve fare riferimento al concetto di sistema, questo va applicato in toto al nord-est, mentre dall'altra parte del fiume si viaggia ancora a macchia di leopardo. I numeri parlano di un tasso di occupazione medio nel 2016 del 2% in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, mentre il Piemonte si è fermato a più 0,7%. E poi c'è il fatto che il nord-ovest soffre di una visione torinocentrica che manda in sofferenza il brand stesso del Piemonte, che non riesce a vendersi al meglio e a risultare attrattivo in termini di identità e di visione dello sviluppo. Le rilevazioni sono emerse durante l'ultima assemblea elettiva di CNA Piemonte, che ha visto riconfermato Fabrizio Attis in qualità di presidente regionale. È stato sottolineato un doppio divario, fra nord-est e nord-ovest, come detto, e tra il Piemonte e il resto del nord-ovest. Sul tavolo delle richieste la necessità di superare questa disparità con politiche attive, altra espressione tecnica, per agganciare la ripresa. Come fare? Mettendo in atto una strategia organica, fino ad arrivare ad avere, come in Lombardia, tutte le aree manifatturiere efficienti. Serve, è stato ribadito, un'identità precisa. Non si può puntare solo sulle grandi opere infrastrutturali, come la Torino-Lione, ma guardare alla sopravvivenza e allo sviluppo di altre azioni piccole e medie, con progetti immediatamente cantierabili. E va da sé che il concetto del fare sistema va applicato anche all'economia sanitaria, e alle politiche di sviluppo culturale. La politica in Liguria, l'unico municipio di Genova probabilmente commissariato, sarà il centro-ovest, perché il centro-sinistra, in un'inconsueta seduta ad agosto dell'Assemblea Municipale, non è riuscito a fare leggere il presidente, l'avvocato ed ex consigliere comunale del PD, Monica Russo. favorevoli solo i nove consiglieri del centro-sinistra, a senuto uno della lista Chiamami Genova, e undici contrari, di cui quattro del Movimento 5 Stelle e sette del centro-destra. Il centro-sinistra ha tentato il tutto per tutto per garantire la governabilità al municipio, ma non è bastato. Nei giorni scorsi, la consigliera regionale e comunale a Genova di Forza Italia, Lilli Lauro, aveva lanciato un appello ai consiglieri del centro-destra a rientrare dalle ferie per impedire l'elezione di Monica Russo, a presidente del municipio. L'ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, che oggi è consigliere comunale, Luca Pirondini, ha definito la convocazione dell'Assemblea ad agosto scorretta eppure un po' penosa. Voltiamo ancora a pagina e parliamo di stranieri, di stranieri che aumentano nelle carceri piemontesi. Gatti Porcentu. Sono sempre di più gli stranieri che finiscono in carcere. In Piemonte quasi il 45% dei 4.000 detenuti non è italiano, mentre la media nazionale è del 34%. Ad Alessandria il carcere Don Sorier è recluso il 55% degli stranieri, ma la maggioranza la si registra anche a Cunia, a Biella, a Vercelli, e a Fossano. I dati sono stati forniti da Bruno Mellano, che insieme a Perla Allegri ha illustrato l'ultimo rapporto di Antigone, l'associazione nazionale che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. Una situazione che va ad aggravarsi sempre di più, con un sistema carcerario ormai praticamente al collasso. In Piemonte il tasso di sovraffollamento in un anno è infatti passato dal 95,1% al 102%, mentre a livello nazionale si parla del 113%, con punte del 139% a Verbagna e di 115% a Torino. E proprio nel capoluogo piemontese ogni educatore deve seguire una media di 108 reclusi. Numeri in costante crescita senza che nessuno faccia molto, il ministro della giustizia Orlando è impegnato in una riforma a favore delle pene alternative, ma la strada sembra più tortuosa dei tre gradi di giudizio italiani. Il grido di allarme arriva anche dalle guardie carcerarie, che ogni giorno devono far fronte a un numero sempre più alto di detenuti a fronte di un organico sempre più all'osso. Ma quanto costano allo Stato, cioè a noi cittadini, le carceri in Italia? La bellezza di 3 miliardi di euro all'anno, qualcosa come 130 euro per detenuto al giorno. Numeri a dir poco paradossali se si pensa al tasso di recidiva dei detenuti nel nostro paese, che sfiora il 68%, quasi a dire che nei reclusori nazionali vengono sfornati delinquenti e non persone eredente. Uno dei problemi veri è che in quasi tutte le 193 carceri attive, l'83% delle pene viene spiata in pochi metri quadrati di cemento armato, poche le attività lavorative, tanto, troppo, lozio che in questo caso aumenta l'amaro far niente. In paesi come la Gran Bretagna, la Francia, la Danimarca, le attività lavorative, soprattutto fuori dalle mure carcerarie, sono a dir poco la normalità e i tassi di recidiva sono bassissimi. Qui da noi ci stupiamo se i detenuti vengono messi a pulire le aiuole delle città, perché manca ogni forma di cultura. Noi siamo liberi, loro sono condannati in mezzo a un muro di cemento. E corsa al vaccino, il vaccino obbligatorio, prima dell'inizio delle scuole. Dieci vaccini obbligatori entro il 10 settembre, nel caso di asili nido o materne, con regolarizzazione degli altri più grandi fino ai 16 anni entro il 31 ottobre. La macchina sanitaria, mossa dal Ministero con tanto diveto ad entrare in aula o sanzioni amministrative per genitori o tutori non rispettosi della normativa, è chiara. E di fatto è scattata la corsa alle vaccinazioni obbligatorie. In Piemonte, come in Liguria, è in corso l'invio delle lettere, che ovviamente darà precedenza alla scuola dell'infanzia. Ad oggi sono ancora molti i bambini e i ragazzi non in regola con l'assolvimento del percorso vaccinale. Ma, spiegano ASL e amministratori, se non si riuscisse a mettersi a posto entro lo squillo della campanella, i genitori potranno e dovranno compilare una dichiarazione di intenti e consegnarla alle scuole interessate entro il 10 settembre o appunto il 31 ottobre. Di fatto, chi non farà fare tutti i vaccini obbligatori ai propri figli potrà essere esonerato solo da un certificato del pediatra o del medico di base. Per evitare di mandare in tilt i comuni e creare complicazioni alle famiglie, la lettera che in Liguria arriverà ai genitori dei bambini dagli 0 ai 6 anni sarà valida come certificato vaccinale o in caso di inadempienza come prenotazione del percorso vaccinale stesso. Lo ha comunicato la vicepresidente Assessore alla Salute della Regione Liguria, Sonia Viale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Di certo, il percorso attivato, aggiunge l'Assessore alla Sanità, ha richiesto e richiede un grande impegno da parte del personale sanitario addetto alle attività di prevenzione vaccinale che con grande dedizione è al lavoro in queste settimane per gli adempimenti e le verifiche del caso cui rivolgo un particolare ringraziamento. Saranno aperte dal prossimo 28 agosto le immatricolazioni all'Università del Piemonte Orientale. L'Ateneo si appresta a festeggiare il ventennale e tra le novità della vasta offerta formativa c'è l'apertura del corso triennale in infermieristica a Vercelli. I numeri sono in costante crescita. Tra il 2011 e il 2016 le immatricolazioni sono aumentate del 53,1% e gli studenti sono oggi oltre 13.000. Per frequentare i corsi triennali delle professioni sanitarie è però necessario iscriversi ai test d'ingresso entro le ore 12 del 28 di agosto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.uniupo.it La pagina degli spettacoli, la città di Aquiterme è protagonista di un grande evento culturale estivo. Stiamo parlando della mostra I colori dei sogni che sarà visitabile fino al 3 di settembre. Soddisfazione nelle parole dell'amministrazione comunale che invita quanti non avessero ancora potuto farlo a recarsi nelle sale espositive di Corso Bagni 1. Il poetico mondo di Marc Chagall immostra fino al 3 settembre ad Aquiterme. L'evento culturale, ospitato a Palazzo Saracco e curato da Adolfo Francesco Carozzi si nutre della fantasia infantile e della potenza trasfigurante delle fiabe russe per passare poi nel colore dei quadri dell'artista naturalizzato francese. La rassegna si chiama infatti I colori dei sogni e porta il visitatore in viaggio tra esperienze primitiviste ed espansioni espressioniste. 120 le opere esposte di cui 7 pezzi unici. La mostra di Chagall durerà fino al 3 settembre e sarà visionabile tutti i giorni fino alle 10 e mezza di sera ed è veramente un orgoglio per questa amministrazione potervela presentare. Questa mostra ha riscosso un enorme successo siamo già arrivati a una soglia di 5.400 visitatori confidiamo di riuscire a raggiungere almeno la soglia almeno dei 9.000 forse anche dei 10.000 perché veramente abbiamo visto che negli ultimi tempi negli ultimi giorni c'è una fruenza sempre crescente e sempre maggiore con un grande interesse del pubblico. Potrete ancora visionarla ancora anche il 2 settembre nel momento in cui ci sarà la notte bianca ad Aquiterme e sarà pronto uno degli ultimi giorni perché poi il 3 settembre cesserà. Inconfondibile l'immaginario di Chagall in un percorso espositivo che si snoda attraverso 5 sale. Una particolarità di questa mostra è l'esposizione di alcune vetrate. Chagall ha operato molto nelle vetrate in numerose cattedrali della Francia e in giro per il mondo. Ad Acqui presentiamo 4 vetrate di queste cattedrali riprodotte in scala su plexigas e retroilluminate per dare così anche una visione completa di tutta l'opera monumentale del grande artista del Novecento. Siamo allo sport alla vigilia dell'inizio del campionato di calcio di Serie C. Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina è tornato a parlare nuovamente del possibile sciopero dei calciatori che potrebbe compromettere la disputa della prima giornata. Gravina ha dichiarato mi auguro che prevalga il buonsenso Tommasi non può fare la voce grossa e mettere a repentaglio la credibilità costruita in questi anni dalla Lega. Ho dovuto già rinviare Olbia Pisa dice per oggettivi problemi di natura organizzativa non posso certo far perdere soldi al club. Se deciderà di scioperare si andrà al massacro con tanti 0 a 3 a tavolino. Ed ora nella pagina sportiva tra poco curata da Dede Vinci parleremo di sport ma di sport legato al territorio con una ciclocamminata annunciata dal commissario di governo del terzo valico Iolanda Romano. Ciclocamminata alla scoperta dei paesaggi e dei sapori delle terre dei giovi che si svolgerà in ogni fine settimana del mese di settembre e che appunto porterà alla scoperta di queste terre. Tra poco il servizio poi il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito arrivederci alle prossime edizioni. Grazie. Grazie.